Capodanno sottotono a Matera nella notte di San Silvestro saranno vietati i botti e non sarà consentito acquistare alcolici. Intanto il prefetto annuncia anche una stretta sui controlli. Sentiamo Sara Lorusso. Rispetto alle attese, come nel resto del paese, anche quello di Matera sarà un capodanno sottotono. Le misure per arginare il contagio da coronavirus toccano anche i comportamenti da tenere nella notte dell'ultimo dell'anno. Nella città dei Sassi, dalle 19 del 31 alle 7 del 1 gennaio, divieto di consumazione e di vendita per asporto di bevande alcoliche. Il sindaco Domenico Bennardi ha anche vietato l'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale fino al 7 gennaio. Non mancheranno inoltre i controlli. Nei giorni di festa saranno intensificati, ma il monitoraggio procede ormai da giorni. Dall'entrata in vigore del Super Green Pass in provincia di Matera sono state controllate circa 7.800 persone. Il punto lo ha fatto il prefetto Sante Copponi. Nelle ultime tre settimane, 20 le persone sanzionate perché trovate prive di Green Pass, 57 quelle sprovviste di mascherina. Poco più di 1.500 gli esercizi commerciali controllati. Per 10 di questi è stata emessa una sanzione. Uno invece è stato chiuso. La stretta sui controlli non è però l'unica strada da praticare, di cui l'appello del prefetto al senso di responsabilità dei cittadini per superare la situazione e mantenere lo status di zona bianca. Dopo le festività sono previste nuove riunioni in tema di sicurezza del territorio. Il prefetto ha annunciato l'attivazione di patti di sicurezza con i comuni su vari temi, per rafforzare il sistema di protezione civile con l'adeguamento del piano provinciale. Tenere riunioni periodiche, almeno settimanali, proprio per esaminare insieme quelle che sono le problematiche che insorgono e cercare insieme di dare risposte per quello che riguarda l'ambito provinciale e soprattutto supportare l'attività dei sindaci.